Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Infipili possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. A puntiamo pagina in conseguenza dell'emergenza coronavirus, ricordiamo di limitare ogni spostamento. Segnerebbe inoltre che è in vigore anche il divieto di uscita dal comune in cui ci si trova, salvo comprovate urgenze lavorative o di salute. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, in settimana nuova al Via, tra l'altro, lavori alla rete elettrica in via di Ripoli e di sistemazione dei chiusini in via della Vigna Nuova. I provvedimenti di circolazione sul sito del comune. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!